Musica Oggi si parla dell'emicrania, questa patologia quasi invisibile, dove arrivare alla diagnosi si arriva sempre in ritardo. Io posso dire che la presa in carico e la presa in cura del paziente è fondamentale e a fianco al neurologo specialista sicuramente c'è la figura dell'infermiere. L'infermiere specialista con competenze avanzate che può prendere in carico il paziente e può intervenire sicuramente nella fase pre-ospedaliera, introspedaliera, ma soprattutto la presa in carico a livello territoriale. Musica Musica